buongiorno e bentornati in questa puntata sarò io stesso a raccontarvi come va la bmw f900 xr pino mottola invece ci descriverà due scarpe della gaerne mentre marco gentili le novità in campo assicurativo a voi la linea bella da guidare possibile da comprare rispetto alla 1000 11.350 euro contro 17.6 un xr più umana brava bmw i manubri alti spopolano era logico farla e allora vediamo com'è fatta stesso colpo d'occhio della 1000 deve essere xr ma lei è meno pesante meno massiccia e vi spiego perché il colore dei fianchi si interrompe qui vedete il nero del telaio e della sella la sorella maggiore invece fateci caso il colore dei fianchi corre lungo tutta la moto fino al retro passando sotto la sella provate a metterle una in fianco l'altra sul computer le due immagini giocate a trovare la differenza altra caratteristica secondo me sono il gioco di vuoti pieni molto valido vedete queste linee parallele che corrono sono volumi spezzati le danno tanta dinamicità anche da moto ferma e questa è una sua caratteristica guardandola qua tanto spigolo e semplicità costruttiva soprattutto a livello di plastiche mi ricorda tanto la ktm però lei è meno accettata meno estrema meno incazzata c'è un po' più di raccordo di armonia quello che la distingue sono le ruote entrambe da 17 piccole è una stradale pura non è un enduro semmai una crossover il motore è appeso al telaio cioè elemento stressato le piastre gli girano attorno come nella ultima f850 gs il teleietto posteriore invece è in semplici tubi tondi d'acciaio ma attenzione le quote non sono quelle della gs della f850 sono dedicate fatte tutte per questa moto il motore si è quello da gs il bicilindrico parallelo ma cresce di cilindrata da 835 a 895 centimetri cubi due millimetri in più di alesaggio poi c'è una testa lucidata pistoni forgiati anziché fusi c'è sempre il doppio albero per le vibrazioni la potenza passa da 95 a 105 cavalli la fasatura 270 che le dà quel gusto in prima apertura più uno scarico più compatto ovviamente due riding mode di serie tre invece in opzione così come il cambio elettronico disponibile sia a scendere che a salire di marcia forcella showa da 43 non regolabile mono zf invece sì doppio disco grosso da 320 pinza freno ad attacco radiale luci full led di serie a 380 euro in più si possono prendere le cornering quelle che illuminano quando la moto si inclina il ciglio della strada comodo il parabrezza regolabile su due posizioni grossa leva si può fare anche in movimento ma ve lo sconsiglio strumentazione tft da 6 pollici e mezzo bmw è stata la prima a introdurla molto d'effetto efficace soprattutto interagibile con questa manopola sul lato sinistro senza togliere la mano dal manubrio il mondo auto la tecnologia delle dell'interattività che arriva verso le moto ormai ce l'hanno tutte sella bassa 825 mm da terra ma ci sono sei opzioni sia verso il basso che verso l'alto alla guida è facile prevedibile neutra è una moto per tutti i giorni ma anche per fare turismo in due è una maxi media o una media maxi a seconda di come la si voglia vedere secondo me ha il pregio di portare nella fascia media dei concetti premium e in questo bmw è sempre stata molto attenta infatti ha le luci cornering adattive le sospensioni attive il controllo freno motore msr o anche la chiamata in cold emergenza cosa non da poco se guardiamo la sicurezza nel complesso freni sospensioni e cambio vanno veramente bene raggio di sterzo non è così elevato ma le inversioni si fanno senza problemi buono riparo rimangono fuori solo le spalle la parte alta del casco motore erogazione piatta regolare elettrica c'è la potenza che serve quello che non mi è piaciuto è forse un carattere cioè non ha un carattere che emerge non ha un aspetto specifico il timbro del motore sotto molto fluido elettrico dicevamo funziona bene ma mi ricorda molto la f850 gs sua sorella che va bene dappertutto ma non ha un aspetto che ti colpisce al cuore nel complesso ottimo bilanciamento le sue rivali sono yamaha treser 900 che però è meno equipaggiata bisogna andare all'ora sulla gt ducati multistrada 950 14.760 addirittura 16.4 la s mv augusta turismo veloce che parte da 17 e mai in su alla fine se la vede con sua sorella maggiore che è più in tutto euro ed emozioni ma in quanto a bilanciamento lei nulla da dire e poi ha un fiocco rosa in famiglia benvenuta si chiamano g rocket e g razzor e sono le due nuove scarpe gaerne che nascono con l'obiettivo di essere sì tecniche e protettive ma anche confortevoli quando si scende dalla moto la g rocket è più sportiva più da naked incazzata ha lattomaglia in microfibra ed è forata per una maggiore ventilazione costruzione abbastanza alta sopra la caviglia ha elevate caratteristiche protettive con rinforzo nell'area dei malleoli della zona delle marce e del tallone la chiusura è mista con lacci e velcro e la suola strutturata e ben armonizzata al look della scarpa la membrana interna qui è in goratex quindi impermeabile e traspirante ma la g rocket è disponibile anche con una membrana interna più economica la g razzor condivide con la g rocket la suola e in generale il concetto di protezione è però più bassa a livello di caviglia ma soprattutto è più casual ha una tomaia mista in pelle scamosciata e tessuto tecnico e una chiusura solo a lacci che possono essere bloccati con uno speciale anello di chiusura in pelle sulla razzor poi la membrana può essere solo in goratex in moto si percepisce l'aspetto protettivo delle scarpe ma mai la costrizione ci sono però differenze perché se a livello di pianta del piede la calzata tra le due scarpe è molto simile la rocket è più fasciante nella zona della caviglia e in generale tutta più strutturata la razzor invece anche per via dei materiali è più morbida più leggera e super comoda anche per passeggiare la rocket è disponibile in un solo colore il nero ed è in vendita a euro 139 e 90 oppure 169 e 90 in caso di membrana interna in goratex la razzor invece è disponibile in tre colori nero grigio e marrone ed è in vendita a partire da 159 euro e 90 oggi insieme a marco gentili parliamo di un tema che ha scaldato non poco anche i dibattiti politici nell'ultimo periodo quello delle assicurazioni marco che cos'è l'rc familiare allora l'rc familiare si promette di essere un'autentica rivoluzione per tutti ovvero sarà possibile all'interno di un nucleo familiare assicurare tutti i veicoli presenti in casa con la migliore classe di merito faccio un esempio molto concreto in una famiglia di tre persone composto da padre madre e figlio il ragazzino di 14 anni se il padre ad esempio in prima classe se potrà assicurare il suo cinquantino in prima classe sin da subito ma cosa succede se c'è un incidente allora la normativa è molto chiara e decisamente punitiva non per tutti i veicoli che approfittano delle dell'rc familiare ma soltanto per chi avanza di classe ovvero sempre riguardo all'esempio che facevamo prima se il padre fa un incidente con la sua auto rientra sempre nelle solite dinamiche se però per esempio il figlio che va direttamente in prima classe col ciclomotore fa un incidente retrocede addirittura di cinque classi parliamo di un incidente con colpo ovviamente è bene puntualizzare che in media si retrocede di due classi quindi è molto punitivo per per chi utilizza l'rc familiare una domanda alla fine si risparmia o no anche questo è un tema molto aperto nel dibattito possiamo dire che a beneficiare di questo provvedimento sono soprattutto le famiglie che hanno molti veicoli in casa nel complesso non possiamo dire se si arriverà risparmiare oppure no il provvedimento è sotto osservazione e entro fine ottobre l'IVAS cioè l'associazione che fa vigilanza sulle assicurazioni farà un resoconto dei primi mesi dello sviluppo del provvedimento dire se si risparmia appunto ripeto è molto 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 difficile le compagnie assicurative hanno già fatto sapere che ovviamente con questo meccanismo tendono a perdere a perdere introiti a perdere premi e quindi ovviamente i premi saranno tutti quanti livellati verso l'alto quindi che sia un reale risparmio per il consumatore io personalmente ne ho forti dubbi bene marco sei stato molto chiaro quindi non ci resta che attendere la fine di ottobre per vedere se risparmieremo o meno e anche questa puntata è finita vi anticipo che nella prossima proveremo un maxi scooter il sim maxin tl500 con stefano burzacchiello se oggi vi è piaciuto mettete un like o anche un commento bello brutto che sia alla prossima ciao 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 ciao